Volevo chiedervi, se a Ray non piacesse la mia esibizione, cosa succederebbe? Stai tranquilla, ti divorerebbe lo stesso il cervello, la vittoria è assicurata. Forse lo è per voi. Cosa volete? Perché non prendete me? Anche con me il divertimento è assicurato, racconto barzellette. Uno zalieno entra in una tavola calda all'etusiana, la cameriera all'etusiana dice... Non l'avete capita, ma per chi parla il letusiano è esilarante. Tu sei molto simpatico, solo che non sei un umano. Sì, che lo sono. Scherzavo. Purtroppo non abbiamo l'uovo del principe e non possiamo tornare da Ray a mani vuote. Ormai le palle di vetro con la neve non lo soddisfano più. Mi è venuta un'idea. Avete sentito, gli zalieni sono qui per trovare l'uovo del principe. Se lo troviamo noi, lo baratteremo con la nostra libertà. Allora cerchiamolo. L'uovo deve essere alla convention nascosto da qualche parte. Io e Ellie proviamo a distrarli, mentre tu e Dez andate a cercare l'uovo del principe. Sì, so cosa fare. Va bene, ragazzi, vi insegno a ballare. Contenti? Fate una giravolta? Sei la creatura più talentuosa che abbia mai conosciuto nell'intero sistema solare. È uno scherzo, mi prendete in giro. Trish, aspetta! Che c'è? Un assaggio di cervello essiccato. Concentrati! Troviamo l'uovo e andiamocene via da qui. Beh, non credo sia difficile. Deve essere uno di questi. O potrebbe essere uno di quelli. Qui ci sono centinaia di uova. Come facciamo a sapere qual è l'uovo del principe? Le vere uova zaliene sono indistruttibili. In questo caso ci resta solo una cosa da fare. Scusami! Oh, che forza! Oh! Abbiamo arrivato! Abbiamo rotto tutte le uova. Guarda, ne è rimasto uno! È quello del principe! Ho lavorato per tre anni e ho venduto la mia bicicletta per comprare questo uovo da collezione, ma ne è valsa la pena! E questo lo prendiamo noi! Non si è rotto! Uovo del principe! Andiamo! Sali sulla scala! Sali sulla scala! Lava la finestra! Lava la finestra! Asciuga le mani! Asciuga le mani! Se vi divertite così, che ne dite di questa mossa? Bam! Ellie, insegnaci ancora la tua danza! Aspetta! Non sarà facile barattare Austin e Ellie con l'uovo del principe. Gli zaliani amano negoziare. Ci saranno molte offerte e contro offerte. Sarà una trattativa lunga. L'uovo del principe è in cambio dei miei amici. D'accordo. Tu sei un essere umano! Hai preso il mio elastico! È davvero un essere umano! Succhiamogli il cervello insieme! Trish! Scusa? Succhia cervello zalieno! Des! Des, svegliati! Austin e Ellie a Disney Channel